Nuri a Guantanamo Merda Che succede? La CIA ha appena portato Reza Nuri a Guantanamo Lo stanno interrogando sul ruolo dell'Iran nella Blacklist Nuri ha dati sulla Blacklist? Dobbiamo scoprire a che gioco sta giocando Beh, ora gioca al carcerato che baratta informazioni per uno sconto di pena Se devi dire qualcosa, dillo Ok Grimm aveva ragione Hai commesso un errore, sei stato avventato E ora dobbiamo metterci una pezza Ehi, ma non l'avevamo escluso l'Iran? Non importa se le informazioni sono giuste Se Nuri canta, gli Stati Uniti finiranno in guerra con il nemico sbagliato Esatto E chi vorrebbe una cosa simile? Sadiq Forse è lui il burattinaio di Nuri Perché Sam ha un presentimento? Non possiamo scoprirlo Abbiamo fregato la CIA a Benghazi e Chicago Quindi ci hanno tagliato fuori È vero Non hai più contatti nei servizi segreti Ho sempre te Cosa vorrebbe dire? Dovete coordinarvi con Grimm e Charlie Come può aiutarmi, Charlie? Non può Tu aiuterai lui Irrompiamo Irrompere A Guantanamo Ci serve un rapporto sui protocolli di sicurezza In modo che Charlie li possa aggirare Non è così facile Servono chiavi e autorizzazioni Facile, posso falsificarle È una follia Non per noi A Guantanamo A Guantanamo A Guantanamo Solo Sescintensi A Guantanamo Cominuar Ci serve un rapporto sui Tutune iche Prodect A Dava In ginocchio. Alzati. Ora sei un prigioniero del Campo 7, nel centro di detenzione di Guantanamo Bay. Annuisci se mi hai capito. Alzati ora! Detenuto, ora sei sotto il mio controllo e obbedirai a tutte le istruzioni che ti darò. Annuisci se hai capito. Non credevo che ce l'avresti fatta. Già, per tua fortuna ho ancora dei permessi della CIA e qualche amico. Piano, Briggs. Serve a convincere le telecamere. L'equipaggiamento è nell'ufficio dopo l'area ricreativa. Staccherò la corrente e ti darò un po' di buio. Nuri è con gli investigatori della CIA. Sono a cena. Dovresti avere un po' di tempo. Ci ritroviamo alla barca? Se ne trovo una. Sì? Se prendi decisioni all'ultimo, a me tocca improvvisare i piani. Ce la farai. Cosa te lo fa credere? Devi farcela. Ci vediamo dall'altra parte. Aspetta. Trova una via d'uscita. Mi sei fatto ingabbiare? Qualcosa di simile. Io sono qui per Sadiq. Sadiq non mi ha rinchiuso qui. No? Ma sei dietro le sbarre e secondo me il motivo è lui. Il prossimo attacco blacklist. Parla. Mi spiace. Adesso parlo solo con i miei amichetti della CIA e non con te. Parlerai. Puoi solo scegliere quanto farà male. Sadiq mi ha mandato lui per depistarli, per farli attaccare Teheran. Ti ho chiesto della blacklist. Vai al punto. Voleva dirattare una nave e io gli ho fornito gli uomini che servivano per guidarla. Dove? Io non lo so. Non lo so. Non so nient'altro dell'attacco. Se non c'è l'Iran dietro la blacklist, allora per chi lavora, Sadiq? Non ho nient'altro da dirti. Ehi, ma che... Tu sei pazzo. Non verrà nessuno, onore. Ti prego, non farlo. Ci tieni alle tue mani? Voglio i nomi. Ti dirò i nomi. Ti dirò i nomi. Sam Fisher. Anna Grinstotter. Isaac Briggs. Charlie Kuhl. La tua squadra. L'aereo. Forza Ecelon. Lui sa. Tutto quanto. Puoi trovare Sadiq. È proprio dietro di te. Sadiq saprà che ho parlato. La morte per mano sua non sarà rapida. Io non ho altre informazioni. Uccidimi e basta. Ti prego. Merito un po' di pietà. Bel lavoro, Briggs. Ho. Sadiq. 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 Sì. Da quant'è che la porta è aperta? Sì. 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 Oh 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 Merta non ci ha voluto molto Perfetto Roger, ci è voluto un po' ma adesso ho uno Zodiac Vai a sud lungo la riva Ricevuto Attento, c'è il generatore di emergenza Bisogna fare in fretta Ci vorrà poco prima che trovino ciò che è posta di Nuri Sam, se è necessario, la palestra ha dardi non letali Se va tutto bene, non serviranno Ricorda, Sam, le guardie non sono ostili Se ci saranno morti, dovrò annullare la missione Non devi assolutamente farti vedere, Sam Fatti scoprire e chiameranno le truppe corazzate e le unità cinofile Non parlare Sì 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 No, 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 no. What the hell are you doing? Stacking boxes. You do not know how to stack boxes. Two more on top there and that whole thing's coming down on your head. It's just boxes. You just finish what you're doing and after that stack falls over on you, I'll show you how to stack boxes properly. Whatever. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aspetta. No, 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 no. No, 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 no.